Com'è possibile che un'intera famiglia sparisca nel nulla da un giorno all'altro? Una famiglia poi conosciuta da tutti, rispettabile, cristiana e con dei valori generalmente condivisibili. Una famiglia composta da genitori, quattro figli e due bellissimi cani, che sparisce da un giorno all'altro senza lasciare tracce. Sembra assurdo, ma è quello che è successo nell'aprile del 2011 a Nantes, in Francia. Quello che sto per raccontarvi è un caso che ha sconvolto tutta l'Europa e che ancora oggi rimane totalmente avvolto da un alune di misteri. Amici miei, buonasera. Ciao, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Anche oggi voglio ricordarvi velocemente che ho scritto un libro, tra l'altro fatemi sapere se l'avete letto, se vi è piaciuto, e se non l'avete letto affidatevi ai feedback che troverete qui sotto nei commenti per decidere se prenderlo o meno. Per chi non lo sapesse, nel libro ci sono dieci storie spaventose che in un modo o nell'altro mi hanno segnato profondamente durante la mia crescita ed è proprio descritto tutto il percorso che mi ha portato a scoprirle. Io sono davvero contento di come sta andando, di tutti i messaggi che mi avete scritto, quindi davvero grazie a tutti quanti. E detto questo, cominciamo subito. Per questa vicenda dobbiamo andare in Francia, quindi praticamente dietro casa per me. Abito molto vicino al confine con la Francia. Tuttavia i fatti di cui voglio parlarvi si sono svolti a Nantes, Nantes, quindi decisamente lontano dall'Italia. Nantes è una cittadina francese di circa 300.000 abitanti situata nella parte occidentale del paese. Si affaccia sull'oceano atlantico e si tratta di una città ricca di cultura. Secondo gli abitanti la vita lì è piacevole e in generale la criminalità è molto poca. Insomma, la tranquillità regna sovrana. La città conta parecchi quartieri residenziali, in particolare al centro sorge un quartiere abitato prevalentemente dal ceto medio-alto, composto da famiglie benestanti e per lo più di fede cristiana cattolica. Rappresenta quindi un contesto sereno in cui molte persone decidono di mettere su famiglia e crescere i propri figli. È in questo quartiere che viveva anche la famiglia di cui parleremo oggi, anche se ci soffermeremo su un membro di loro in particolare, il padre, Xavier Dupont de Ligonnet, il padre di famiglia. Xavier nasce il 9 gennaio 1961 a Versailles. È il figlio di Bernard Hubert Dupont de Ligonnet, un ingegnere laureato, nonché un conte. Si tratta infatti del conte Dupont de Ligonnet, che magari a voi non dice nulla, ma in Francia è un'importante famiglia aristocratica. I conti possedevano un castello nel centro-sud della Francia ed era quindi una famiglia di veri nobili. Tuttavia, nonostante lo status importante della famiglia, il padre di Xavier è tutto tranne che ricco. Infatti, quando il ragazzo è ancora adolescente, Bernard decide di abbandonarlo e si trasferisce altrove per cercare fortuna, lasciando così il ragazzo a crescere da solo con sua madre. Questo è un momento fondamentale nell'infanzia di Xavier perché dimostra quanto in realtà non avesse per niente una vita perfetta, nonostante appunto la nobiltà. La mamma di Xavier, Genevieve Therese Maître, è una donna molto religiosa, direi quasi al limite dell'estremismo, e quando tocchiamo certi termini sappiamo tutti che non ci riferiamo per niente a qualcosa di positivo. Xavier, durante la sua parentesi di vita insieme a lei, si alza ogni giorno alle 7 del mattino per andare a messa, poi va a scuola e infine trascorre il pomeriggio tra i compiti e i versi della Bibbia, perché per Genevieve l'educazione religiosa è importante quanto quella scolastica. Verso la fine degli anni 60, la madre di Xavier fonda una sorta di setta religiosa dal nome Filadelfi, su cui però non sono riuscito a trovare molte informazioni. Basta sapere che la donna aveva delle credenze molto particolari, possiamo dire. Infatti, credeva fermamente nell'arrivo di un imminente apocalisse, e credeva anche che suo figlio Xavier fosse il prescelto per salvare l'universo. Quante volte abbiamo sentito queste dinamiche del genere? Cioè io direi troppe volte. Praticamente in tutti i video in cui parliamo di sette religiose, che fanno poi cose orribili, c'è sempre appunto il punto comune tra tutte queste storie, è sempre l'apocalisse e l'ascesa di un nuovo messia. È assurdo che tutti questi elementi ci siano praticamente sempre in queste storie. Comunque, questa è una storia diversa. Diciamo che fino ai 30 anni l'uomo rimane inglobato in questo universo mistico, poi però inizierà a porsi molte domande esistenziali, e si interrogerà sulla sua fede, soprattutto appunto quando arriverà in età adulta, e avrà modo di confrontarsi sempre di più con il mondo esterno, discostandosi ovviamente pian piano dalle credenze che gli erano state inculcate. Nonostante Xavier fosse cresciuto in un contesto estremamente rigido e cristiano, in realtà riuscì a costruirsi la sua strada, e raggiungere anche un buon traguardo con gli studi. Il ragazzo infatti si iscrive alla facoltà di ingegneria, dove pochi anni dopo si laurea. Gli anni della gioventù per Xavier rappresentano praticamente i suoi anni d'oro. In quel periodo ha un sacco di amici, è sempre in viaggio, e ha anche molto successo con le donne. E a proposito di donne, parliamo un attimo anche della madre della famiglia, quella che sarebbe poi diventata la moglie di Xavier, e la madre dei loro figli. Lei si chiama Agnès Audanger, e nasce il 9 novembre 1962 a Neuilly-sur-Seine, alla periferia di Parigi, quindi al momento dei fatti, che vedremo tra poco, aveva 48 anni. La donna conosce Xavier negli anni 80, quando lei ha solo 19 anni. Agnès è a sua volta una donna molto religiosa, frequenta spesso la messa, e quando si trasferisce a Nantes con la famiglia, diventa assistente presso la scuola cattolica Blanche de Castille, dove parte dei suoi compiti comprende l'insegnamento del catechismo. Viene descritta come una mamma molto gentile, ma anche relativamente severa con i suoi figli. Parliamo quindi anche di loro. Il primo genito, Artur Nicolas Dupont de Ligonnée, nasce il 7 luglio 1990, ottiene il diploma in scienza e tecnologia industriale, e al momento dei fatti, nel 2011, stava studiando per un diploma tecnico in informatica, presso l'università cattolica privata Saint-Gabriel, nel dipartimento della Vandea, a circa un'ora di macchina da Nantes. Lavorava saltuariamente come cameriere in una pizzeria, sempre a Nantes. Aveva 20 anni al momento dei fatti. Il secondo genito, invece, Thomas Dupont de Ligonnée, nasce il 28 agosto 1992, a Dragugnane, nel sud della Francia. Ottiene il diploma in letteratura a 17 anni. Dovete sapere che, in Francia, il sistema scolastico è diverso, ci sono 4 anni di scuola media, e solo 3 anni di scuola superiore, quindi gli studenti finiscono un anno prima, rispetto a noi, e nissano l'università, appunto, un anno prima. Thomas, comunque, è appassionato di musica, e infatti, studierà musica in università cattolica. I suoi compagni lo hanno sempre descritto come un ragazzo normale, molto silenzioso e discreto. Al momento dei fatti, aveva solo 18 anni. Poi c'è Anne Dupont de Ligonnée, che nasce il 2 agosto 1994, sempre a Dragugnane. Lei viene descritta dai suoi amici e parenti, come una ragazza che condivideva le credenze religiose di sua madre, sempre premurosa e disponibile. Anne è una ragazza bellissima e piena di fascino, infatti lavora anche come modella per alcune riviste locali, oltre ad essere la migliore studentessa della sua classe. Aveva 16 anni al momento dei fatti. Infine, il più piccolo, Benoît Dupont de Ligonnée, che nasce il 29 maggio del 1997. Secondo i suoi amici e compagni di scuola secondaria, era popolare e molte ragazze lo adoravano. Era un chierichetto nella chiesa di Saint-Félie, a Nantes, e aveva una grandissima passione per la batteria, uno strumento che suonava praticamente sempre. Al momento dei fatti, aveva solo 13 anni. Dato che abbiamo finito con le presentazioni, voglio un attimo parlarvi della storia di questa famiglia, partendo da dove tutto è iniziato, ovvero dall'incontro tra i due genitori. Xavier, come vi anticipavo prima, conosce Agnès nei primi anni 80. Lui in quel periodo ha 20 anni, mentre Agnès ne ha 19. Lei è una ragazza stupenda, una di quelle ragazze che non passano mai inosservate, ma è anche molto conservatrice, legata a dei valori tipicamente cristiani, radicati proprio a fondo nella sua personalità. Xavier, nonostante anche lui, provenisse da una famiglia rigidamente cristiana e nobile, in quel periodo della sua vita, brama l'avventura, vuole viaggiare, scoprire il mondo, e l'idea di sistemarsi con una persona cara, a quell'epoca non lo sfiora minimamente. Per questo, dopo una frequentazione piuttosto seria, decide di porre fine alla relazione con Agnès, e di partire per viaggiare ed esplorare, lasciandosi alle spalle tutto il tempo passato con lei. Un anno dopo, quando Xavier torna a Versailles, viene a sapere che Agnès era rimasta incinta di un altro uomo, per cui il ragazzo decide di provare a riconquistarla, e addirittura a sposarla. E ci riesce. Agnès cade di nuovo tra le sue braccia. E dopo la nascita del figlio, l'uomo decide di adottarlo, dandogli il suo cognome. Nasce così nel 1990, Arthur Dupont de Ligonnet. Questo è un fatto molto insolito per il contesto da cui proviene Xavier, e completamente anormale per un posto come Versailles. Infatti è improbabile che un nobile sposi una donna già incinta di un altro uomo, e che addirittura lo adotti dandogli il suo cognome. Tuttavia, dopo la nascita di Arthur, l'amore tra Xavier e Agnès sembra esplodere ancora di più. E così, i due decidono di mettere su famiglia insieme. Negli anni 90 nasceranno poi gli altri figli, in ordine cronologico, Thomas, Anne e Benoit. Visti da fuori, effettivamente sono proprio l'incarnazione della famiglia perfetta. Xavier è un padre affettuoso e sempre sorridente. Agnès è una madre giusta e premurosa. I figli sono tutti bellissimi e hanno anche due cani meravigliosi. La casa scoppia di vita. Non c'è un momento in cui non risuoni nell'aria qualche risata o della buona musica. Intorno agli anni 2000, la famiglia tenta la fortuna in America, e si trasferisce in Florida per inseguire il sogno americano. Ormai però era un po' troppo tardi, in realtà, per seguire il sogno americano. Sfortunatamente, infatti, questo tentativo fallisce nel giro di un paio d'anni. Forse Xavier pensava sarebbe stato facile trasferirsi e insediarsi in un altro continente con una famiglia a carico, ma a quanto pare la vita aveva altro in serbo per lui. E così, l'uomo e la sua famiglia sono costretti a tornare in Francia. È qui che si stabiliscono a Nantes, più precisamente a Boulevard Schumann 55, che sarà il luogo in cui si svolgeranno i fatti. Scusate, lo so che vi sto tenendo sulle spine, ma davvero è fondamentale avere un quadro della situazione. Tra poco capirete il perché. Comunque, il ritorno in Francia rappresenta per Xavier una vera e propria sconfitta. Infatti, per inseguire questo sogno americano, l'uomo aveva speso praticamente tutti i suoi soldi. Dal 2002 al 2011 sarà poi un susseguirsi di fallimenti lavorativi per il conte, che farà fronte a grossi problemi finanziari. Dopo il ritorno dall'America, pensate, non si è mai realmente capito che lavoro svolgesse Xavier. Infatti, non ha mai detto chiaramente quale fosse la sua mansione. Le persone attorno a lui hanno sempre dichiarato che l'uomo rimaneva piuttosto vago quando si menzionava l'argomento. Parlava delle sue imprese, diceva che andavano molto bene, si spacciava per un uomo d'affari molto impegnato e diceva di viaggiare spesso in tutto il paese proprio per il suo lavoro. Affermava di essere un venditore, ma anche qui non sappiamo esattamente che tipo di venditore fosse. È molto probabile, invece, che le imprese di Xavier andassero male e che nel giro di poco tempo si sarebbe indebitato fino al collo. Infatti, gli ufficiali giudiziari gli stavano addosso e la pressione aumentava sempre di più. Xavier, arrivato a quel punto, sa benissimo che il passo successivo sarebbe stato rinunciare alla casa e a tutti i suoi averi. E questo rappresentava uno spiacevole punto di non ritorno per lui. Immaginate un uomo che basa la sua intera vita sull'idea di essere un nobile, un uomo d'affari di successo, che dice a tutti di essere così. Se le persone avessero scoperto che non era affatto vero e che tutte le sue attività erano state fallimentari, per lui sarebbe stata la fine. L'uomo, piano piano, si stava scavando la fossa da solo e aveva l'impressione che qualsiasi decisione prendesse lo avrebbe portato solo più a fondo. Xavier era una persona molto orgogliosa e non avrebbe mai voluto che la gente scoprisse che la famiglia era quasi sull'astrico, perché per lui sarebbe stato un motivo di troppa vergogna. Oltre ai grossi problemi finanziari, anche le dinamiche coniugali precipitano sempre di più. Agnès, nel 2004, quindi sette anni prima degli eventi, inizia a scrivere, in modo prolifico, sul forum online francese Doctissimo, in cui descrive le difficoltà che lei e suo marito affrontano ogni giorno, il tutto ovviamente in maniera anonima. Racconta di quanto Xavier fosse estremamente conservatore e di come fosse sempre meno gentile con lei. Afferma che l'uomo aveva poca pazienza e che ricopriva solamente il ruolo di capofamiglia, omettendo i suoi doveri da marito e da padre. Un giorno la donna scrive addirittura che Xavier le aveva detto che una morte di gruppo in famiglia non sarebbe stata una catastrofe. Questo per farvi capire quanto l'uomo doveva essere sotto pressione in quel periodo, tra problemi finanziari e la crisi matrimoniale. Nel 2005, poi, Xavier scopre che Agnès lo tradiva con uno dei suoi migliori amici e sente così ogni pezzo del suo mondo crollare lentamente. Nonostante l'infedeltà e la triste vita matrimoniale, l'uomo non riesce a lasciare la moglie e a prendere la decisione di divorziare e il motivo è semplice. Agnès aveva appena ricevuto una grossa somma di denaro come eredità e questo, come immaginate, lo ha legato inevitabilmente a lei perché, ripeto, lui intanto si stava indebitando sempre di più. Questa situazione crea in Xavier ancora più frustrazione, si sente letteralmente con le spalle al muro e in queste condizioni, si sa, l'essere umano può arrivare a fare cose impensabili. L'amico con cui Agnès tradiva Xavier si chiama Michel Retif e mi sono informato un po' su di lui. È nato nel 64 a Parigi e non era un semplice conoscente o amico di Xavier. Infatti, a quanto pare, i due erano davvero molto legati, praticamente migliori amici da una vita. Tanto che negli anni 90 hanno fatto un lungo viaggio insieme negli Stati Uniti. L'uomo si è tolto la vita nel 2018 dopo aver scoperto di avere un tumore incurabile. Comunque Xavier, una volta venuto a conoscenza di questa relazione clandestina, capisce di essere in un vicolo cieco e decide di contattare Michel per offrirgli di condividere sua moglie. È assurdo. Lo so, specialmente per una persona così devota in teoria e cresciuta con un'educazione estremamente rigida. Comunque, la sua unica richiesta, o direi quasi esigenza, è di essere tenuto al corrente di tutti gli scambi tra lui e Agnès. In qualsiasi momento, questo trio amoroso non fa altro che evidenziare il bisogno malato che Xavier aveva di avere sempre il controllo e il potere su tutto, in qualsiasi situazione. La coppia si perde completamente in questa relazione malsana, tant'è che i due si tradiranno poi reciprocamente e Xavier finirà poi per avere una relazione con la sua ex fidanzata. Arrivati al 2010, la situazione è ormai praticamente al collasso. Oltre ad avere migliaia e migliaia di euro di debiti, Xavier non riesce neanche a pagare l'affitto da mesi e ovviamente nemmeno le rette universitarie di Arthur e Thomas una sera preso dalla disperazione scrive una mail a due amici due amici che non sono riuscito a capire chi fossero l'unica informazione che abbiamo è che gli investigatori hanno trovato queste mail nella casella postale comunque in questa mail l'uomo scrive se va male ho solo due soluzioni schiantarmi con la macchina o a piccare fuoco alla casa mentre tutti dormono PS sono serissimo lucido e non sono sotto effetto di droghe o alcol se fuggo non mi troverete mai nel dicembre del 2010 Xavier si iscrive al poligono di tiro nazionale di Nantes e si allena regolarmente per ottenere il porto d'armi che riesce poi effettivamente ad avere nello stesso periodo la sua vita viene di nuovo sconvolta dalla morte di suo padre il conte Bernard Xavier si trova quindi costretto a sgomberare casa sua e recuperare tutti i suoi oggetti in quel momento l'uomo spera di riuscire magari a recuperare del denaro nascosto o qualche gioiello di valore ma purtroppo non trova nulla di tutto ciò l'unico oggetto che Xavier recupera sarà qualcosa su cui non avrebbe mai dovuto mettere mano in fondo a un armadio trova il fucile del padre un calibro 22 Xavier da quel giorno andrà a esercitarsi sempre di più al poligono nel marzo del 2011 l'uomo acquista un silenziatore per il suo fucile in un'armeria di Nantes fatto che desta parecchi sospetti perché effettivamente non aveva senso utilizzare un silenziatore al poligono di tiro e nello stesso mese l'uomo acquista in una ferramenta dei grossi sacchi della spazzatura e del nastro adesivo probabilmente avete già capito quello che succederà ma fidatevi non potete immaginare quanto strane diventeranno le cose la prima preoccupante scomparsa avviene il primo aprile del 2011 quando il figlio maggiore Arthur non si presenta alla pizzeria dove lavorava quel giorno il ragazzo avrebbe dovuto recarsi al lavoro anche per ritirare il suo stipendio il che risulta subito strano al suo datore di lavoro nello stesso giorno Xavier acquista dei sacchi di cemento e un'ascia in diversi negozi di nante il 3 aprile Agnè viene vista l'ultima volta da un vicino e lo stesso giorno Xavier viene avvistato mentre mette dei grossi sacchi neri nella sua macchina Christine la sorella di Xavier riceve alle 22.32 dello stesso giorno sulla sua segreteria telefonica un messaggio proprio da lui abbiamo fatto una serata a cinema in famiglia e quindi ti mandavo un messaggio per chiederti se fosse troppo tardi per chiamarti richiamami o mandami un messaggio ora vado a mettere i ragazzi a letto e saluto tutti il 4 aprile poi ci sono due nuove preoccupanti scomparse ovvero quella di Anne e Benoit i due figli più giovani della famiglia ormai assenti da un paio di giorni dalla scuola che frequentano i compagni iniziano ad allarmarsi quando nessuno dei due risponde più ai messaggi la stessa sera Xavier porta Thomas il secondo genito in un ristorante locale per cenare insieme i camerieri affermeranno poi che la cena tra i due è stata estremamente silenziosa il giorno successivo Thomas è a casa con un amico quando all'improvviso riceve un messaggio da suo padre Xavier gli comunica che la madre Agnès ha avuto un brutto incidente in bicicletta ed è ricoverata nell'ospedale di Nantes in condizioni molto critiche Thomas senza riflettere nemmeno un secondo torna a casa Xavier viene poi visto il 7 aprile mentre mette dei bagagli nella sua macchina l'11 aprile la scuola di Anne e Benoit riceve una lettera firmata da Xavier in cui scrive che la famiglia deve trasferirsi altrove con urgenza e che non farà più ritorno poco dopo l'istituto cattolico dove lavora Agnès riceve una lettera di dimissioni firmata dalla stessa Agnès evocando le medesime ragioni della lettera dei due ragazzi il direttore della struttura rimane subito basito dalla lettera così improvvisa perché non era proprio nella natura della donna sparire così senza nemmeno prima salutare avvisare anche perché Agnès Agnès amava il suo lavoro lì così l'uomo decide di contattare la famiglia per avere qualche informazione in più ma non ottiene alcuna risposta come ultima cosa vengono inviate diverse lettere agli amici più stretti di Xavier in cui c'è scritto che l'uomo è stato messo in contatto con la DEA un'agenzia federale americana nella lotta contro gli stupefacenti e che l'intera famiglia si trova costretta a trasferirsi negli Stati Uniti in un programma di protezione testimoni e nessuno per questo motivo potrà mettersi in contatto con loro per diversi anni tutti i membri saranno costretti a cambiare identità e verranno finanziati dal governo degli USA il 13 aprile un vicino decide finalmente di chiamare la polizia è ormai passata più di una settimana da quando le serrande in casa Dupont sono abbassate e non c'è nessun segno di vita all'interno dell'abitazione tutto è tremendamente silenzioso quella casa in cui si respirava gioia e si sentiva la musica in ogni momento della giornata diventa spaventosamente buia e silenziosa nel giro di un giorno e questo inizia a destare parecchi sospetti in tutto il vicinato alleluia quella casa non aveva mai le serrande abbassate nemmeno quando la famiglia partiva per le vacanze mai nello stesso giorno quindi degli agenti di polizia si recano al domicilio della famiglia Dupont e effettuano una prima ispezione entrando in casa grazie all'aiuto di un fabbro lo scenario che si trovano davanti è una casa estremamente ordinata e pulita ma totalmente vuota in alcune camere da letto le lenzuola sono state rimosse gli armadi completamente svuotati e lasciati aperti si arriva quindi alla conclusione che tutti i membri siano andati via volontariamente in quel momento insomma non c'è nulla di così sospetto che possa far avviare un'indagine ufficiale di tutte le auto della famiglia manca all'appello però solo la Citroen C5 e questo è un fatto che desta un po' di sospetti considerando che si tratta di una macchina relativamente piccola e lui in teoria era partito con l'intera famiglia i bagagli e anche i cani insomma la famiglia di Agnès specialmente rimane un po' dubbiosa e manda una lettera alla procura di Nante dicendo che tutta la situazione risulta molto ambigua secondo i suoi familiari Agnès non sarebbe mai partita con i ragazzi senza prima avvisare o almeno chiamare mandare una lettera qualsiasi cosa così il 15 aprile la polizia ritorna alla casa per un'indagine più approfondita gli agenti notano che tutte le foto di famiglia appese alle pareti sono state rimosse dalle cornici come se un componente della famiglia le avesse portate via come ricordo oltre a questo non viene trovato nulla di sospetto in casa tuttavia i parenti di Agnès continuano a sostenere che una famiglia non possa sparire così da un giorno all'altro e insistono nel fare pressione alla polizia è assurdo che ci sia voluta un'insistenza così sulla polizia per far qualcosa da questo momento infatti poi ci sarà una terza ispezione il 18 aprile poi una quarta ispezione il 19 e una quinta il 20 e ogni volta gli agenti non rilevano nulla di insolito questo fino al 21 aprile 2011 giorno in cui viene effettuata la sesta ed ultima ispezione nello stesso esatto momento in cui stava avvenendo l'ispezione il procuratore distrettuale Xavier Ronsen sta tenendo una conferenza stampa in tribunale dichiarando che le modalità con la quale la famiglia è scomparsa risultano abbastanza inusuali che probabilmente verrà aperta un'indagine ufficiale poi all'improvviso interrompe la conferenza per rispondere ad una telefonata rimane in chiamata qualche minuto poi torna al microfono e con tono molto serio annuncia che la conferenza deve essere rinviata così diventa chiaro a tutti che qualcosa non va e che deve essere stato scoperto un dettaglio importante o dei dettagli importanti la telefonata a cui il procuratore risponde infatti era proprio da parte degli investigatori che in quel momento si trovano nella casa della famiglia Dupont gli agenti che intanto stanno perquisendo l'abitazione notano qualcosa di strano sotto la terrazza sembra quasi a prima vista che qualcuno abbia voluto ricoprire qualcosa con delle macerie ci sono sassi della terra e anche le ciotole dei cani completamente vuote controllando più attentamente gli agenti notano che c'è anche del cemento ancora fresco a seguito di questa scoperta cominciano a scavare ed è in quel momento che vengono travolti da un odore tremendamente fastidioso un odore che non preannuncia mai qualcosa di buono quello della carne in putrefazione continuando a scavare nel terreno trovano dei grandi sacchi della spazzatura legati con del nostro adesivo i corpi di Agnès Artur Thomas Anne Benoit e dei due cani vengono ritrovati avvolti in coperte e lenzuola all'interno dei sacchi della spazzatura è in quel momento che la polizia realizza di non essere di fronte ad una fuga voluta ma ad un vero e proprio massacro quello che verrà ricordato come il massacro di Nantes accanto ad ogni corpo c'è una piccola icona religiosa come una candela o una croce si tratta palesemente di una sepoltura religiosa e evidenzia anche un legame affettivo tra le vittime e l'autore del gesto solo che i corpi non sono stati sotterrati in un cimitero ma sotto la terrazza di casa nella prima fossa gli agenti trovano il corpo della madre Agnès e di tre ragazzi Artur Benoit e Anne tutti sepolti insieme ai due cani in una fossa separata poi c'è il corpo di Thomas all'appello manca una persona dov'è Xavier? vista la situazione e la gravità del crimine Xavier sale in cima alla lista dei sospettati e il giudice emette un mandato di cattura internazionale le ricerche iniziano subito e in pochi attimi Xavier Dupont il brillante uomo nobile di successo diventa l'uomo più ricercato di Francia tutti in quel momento si stanno chiedendo dove sia cosa abbia intenzione di fare forse togliersi la vita scappare compiere un'altra strage i corpi dei membri della famiglia vengono sottoposti alle rispettive autopsie pratiche che ovviamente rappresentano l'unico modo per scoprire come e quando sono morti e soprattutto cercare di fare chiarezza su questo massacro apparentemente senza senso ognuno di loro ha ancora addosso il pigiama il che fa subito supporre che siano stati uccisi durante la notte mentre dormivano dico mentre dormivano perché nel sangue vengono trovate tracce di sonnifero o meglio nel sangue di tutti tranne che in quello di Agnès e ora un dettaglio importante la donna Agnès per dormire aveva bisogno di un macchinario contro l'apnea notturna e questo macchinario si era fermato improvvisamente alle 3.30 di notte del 4 aprile 2011 e da quel momento non era mai più stato acceso il medico legale presume che Agnès sia stata la prima vittima e che quella sia stata la tragica notte in cui è avvenuto il massacro ma allora perché Tomás è stato trovato in una fossa diversa da quella in cui sono stati rinvenuti gli altri membri della famiglia è stato ucciso e sepolto in un altro momento durante le indagini verranno interrogati tutti gli amici e i compagni della famiglia nonché l'amico con cui si trovava Tomás il giorno prima della sua scomparsa se vi ricordate infatti Tomás il 5 aprile si trovava insieme ad un suo amico quando all'improvviso Xavier gli aveva ordinato di tornare a casa dicendo che la madre Agnès aveva avuto un brutto incidente si trovava in ospedale ecco la notte tra il 3 e il 4 aprile quella del massacro Tomás non si trovava in casa ma era rimasto a dormire in uno degli alloggi della sua università questo significa che mentre Xavier compieva il massacro dell'intera famiglia e seppelliva i corpi sotto la terrazza Tomás stava dormendo nel dormitorio della sua università ignaro di tutto da quel momento si cerca di fare una ricostruzione completa di come siano andati i fatti durante quella fatidica notte del 4 aprile Xavier ha lasciato quel messaggio in segreteria a sua sorella in cui le diceva che andava a mettere i ragazzi a letto ha addormentato i figli con i sonniferi e ha ucciso la moglie Agnès con due colpi di fucile intorno alle 3 o 3.30 del mattino ovvero l'ora assegnata sul dispositivo dell'ossigeno successivamente ha ucciso Arthur Anne Benoit e i due cani ognuno di loro con due colpi di fucile i proiettili estratti dai corpi appartenevano tutti ad un fucile calibro 22 lo stesso che Xavier aveva ereditato dal padre com'è possibile sparare a 5 persone e due cani nel cuore della notte senza che nessun vicino sentisse niente beh è possibile perché se vi ricordate l'uomo aveva acquistato un silenziatore per la sua arma si trattava quindi di un'esecuzione precisa e metodica studiata nel minimo dettaglio probabilmente da mesi secondo le ricostruzioni Xavier ha poi avvolto i corpi in delle coperte li ha inglobati nei sacchi della spazzatura e li ha sepolti sotto la terrazza il giorno successivo quindi il 4 aprile Xavier ha portato Thomas a cena al ristorante e in quel momento il ragazzo era l'unico membro della famiglia ad essere ancora vivo e ovviamente non lo sapeva mi vengono i brividi a pensare che mentre padre e figlio erano a cena insieme al ristorante a casa c'erano già i cadaveri dell'intera famiglia questo fatto evidenzia come Xavier avesse esitato nell'uscire Thomas e questo non è un caso se ci pensate Arthur il figlio più grande proveniva da una precedente relazione di Agnès e non era quindi il vero primogenito di Xavier Thomas tuttavia rappresentava davvero l'erede del conte Dupont colui che avrebbe portato avanti la stirpe quindi si pensa che è possibile che l'uomo abbia esitato ad ucciderlo proprio per questo motivo tuttavia il giorno successivo quindi il 5 aprile Xavier scrive a Thomas di tornare subito a casa seguito dell'incidente di Agnès e qui potremmo pensare che l'uomo l'abbia ucciso subito ma non è stato così i due infatti passeranno la serata a guardare la televisione insieme l'ultima notizia che abbiamo di Thomas è mezzanotte circa quando manda un messaggio all'amico con cui era prima poi più nulla probabilmente il sonnifero aveva iniziato a fare effetto anche su di lui dopo che viene emesso il mandato di cattura internazionale l'intero paese si immobilita per trovare Xavier Dupont l'uomo era stato avvistato la domenica 10 aprile ad Angers quando però non era ancora ricercato se ricordate perché le indagini ufficiali sono partite solo dopo il ritrovamento dei corpi dopo il 21 aprile comunque dopo quella domenica 10 aprile passerà la notte tra l'11 e il 12 aprile in un hotel vicino a Toulouse ripartirà il giorno successivo con la sua Citroen C5 e trascorrerà la notte tra il 12 e il 13 aprile alla locanda delle Cassagne nel comune di Pontet Avignon sotto falsa identità l'uomo si presenterà infatti come Xavier Laurent e salderà il conto di più di 200 euro con la carta di credito il 14 aprile viene visto da una videocamera di sorveglianza mentre preleva del denaro da un banco matto automatico nella città di Roquebrune sur Argent e infine la sera dorme nell'hotel Formula One della stessa città la polizia recupera le immagini delle telecamere a circuito chiuso dell'hotel e scopre così un'immagine di Xavier la mattina successiva mentre attraversa il parcheggio dell'albergo dopo il check out sta trasportando una grossa sacca nera sulla spalla nella quale si intravede un oggetto allungato gli investigatori capiscono subito che doveva trattarsi del fucile con cui l'uomo aveva sterminato la sua intera famiglia poi all'improvviso si volta verso la telecamera sorride e saluta con la mano come se stesse dicendo addio a mai più e se ne va a piedi lasciando la sua citroenne nel parcheggio quella è stata l'ultima volta in cui Xavier Dupont è stato visto ma cosa c'è in quella zona? beh Roquebrune è una zona totalmente montuosa per chilometri la strada è circondata solo da burroni rocce montagne molti direbbero che è il posto perfetto per andare a suicidarsi e infatti è quello che la polizia ipotizza fin da subito Xavier Dupont è andato a togliersi la vita tra le montagne è l'unica spiegazione logica siccome è stato visto completamente da solo non aveva con sé né acqua né cibo ma neanche vestiti o qualcosa che insomma potesse permettergli di sopravvivere tra le montagne per qualche giorno a quanto capito i filmati delle ultime riprese dell'uomo non sono mai stati pubblicati comunque non ufficialmente infatti non sono riuscito a trovarli però l'immagine di Xavier che si allontana dal parcheggio sorridendo la telecamera e insieme al suo fucile è abbastanza per convincere gli investigatori a cominciare una ricerca nell'entroterra francese nelle settimane successive centinaia di squadre di ricerca perlustrano l'intera zona tutto il perimetro viene minuziosamente setacciato in tutta la sua interezza ci sono centinaia di persone coinvolte che cercano nei cespugli nelle buche tra le rocce nelle caverne poi però i giorni diventano settimane e le settimane diventano mesi ma ancora nessuna traccia del corpo di Xavier è come se fosse scomparso nel nulla completamente volatilizzato senza lasciare alcuna traccia ma in quel momento sono tutti convinti che Xavier Dupont si sia suicidato e che il suo cadavere sia lì da qualche parte questa convinzione non è errata se si pensa che statisticamente parlando nel 98% dei casi in cui una famiglia viene massacrata dal padre quest'ultimo decide poi di togliersi la vita nessuno in quel momento pensa che Xavier possa rientrare in quel 2% che si dà alla fuga per me invece ma non solo per me è stato proprio così ho passato davvero tanto tempo a studiare questo caso ne avevo sentito parlare all'epoca dei fatti era passato anche a chi l'ha visto e comunque ogni tanto negli anni mi tornava ancora in mente fino a quando non mi sono deciso a parlarne e realizzare questo video sono rimasto interi giorni a documentarmi e recuperare ogni articolo e ogni fonte possibile per riuscire a trattare questa storia così terribile nella maniera più precisa e completa possibile sono quindi arrivato a formulare un mio pensiero come penso ognuno faccia quando sento un caso del genere io e ripeto mia opinione personale penso davvero che Xavier non abbia mai avuto intenzione di suicidarsi perché farlo? perché sprecare così tante energie nell'uccidere la sua famiglia con operazioni così meticolose degni di un professionista? perché nascondere i corpi e scrivere tutte quelle lettere? e perché depistare in ogni maniera possibile gli investigatori se la sua intenzione era semplicemente di togliersi la vita? io penso invece che Xavier avesse chiaro in mente ogni sua singola mossa dall'inizio magari da mesi prima del massacro l'unica cosa che mi sono chiesto e che all'epoca si chiedevano tutti è perché essere così preciso e attento nel massacro per poi utilizzare la carta di credito e alloggiare negli hotel in vari posti della Francia durante la fuga almeno durante i primi giorni probabilmente sapeva di avere qualche giorno di tempo prima che la polizia scoprisse i corpi e quindi sapeva anche di non essere ancora sospettato e seguito o forse addirittura pensava che non avrebbero mai trovato i corpi l'unica cosa che Xavier ha sempre avuto in mente era guadagnare tempo e ci è riuscito e quel saluto alla telecamera nel parcheggio dell'hotel l'ultima volta che è stato visto secondo me era proprio un suo modo per dire ce l'ho fatta come un giocatore di scacchi aveva pianificato ogni sua mossa ma quella non è stata l'ultimissima volta in cui si sono avute sue notizie infatti a metà luglio del 2015 una giornalista di Nantes ha ricevuto una fotografia l'immagine in questione raffigura Arthur e Benoit Dupont due dei figli di Xavier seduti al tavolo della cucina e dietro la fotografia c'era scritto sono ancora vivo da allora fino a quest'ora firmato Xavier Dupont dell'Igonnes A distanza di anni non si sa ancora che fine abbia fatto Xavier Dupont tutt'oggi non si sa e rimane uno degli uomini più ricercati di Francia ancora adesso negli anni però sono state numerose le segnalazioni di persone che dichiaravano di averlo visto nel 2019 due turisti in visita al monastero Saint-Desert a Roquebrune l'ultimo posto in cui era stato visto Xavier chiamano la polizia dicendo che l'uomo in quel momento si trovava nel monastero intento a pregare gli agenti arriveranno subito dopo ma gli esami del DNA che faranno su quest'uomo riveleranno che si trattava di un errore non era lui nel 2018 invece una turista in Thailandia è convinta di aver visto Xavier Dupont ma a seguito di questa testimonianza non saranno mai avviate delle indagini l'11 ottobre 2019 il giornale francese Le Parisien fa uscire un articolo in prima pagina che afferma che Xavier Dupont l'uomo più ricercato di Francia era stato appena arrestato in Scozia tuttavia il procuratore di Nantes chiede la massima discrezione sul caso perché le impronte corrispondono alle sue a quelle di Xavier ma solo in 5 punti però per identificare formalmente una persona basandosi sulle sue impronte è necessario che ci siano almeno 15 punti in comune pochi giorni dopo comunque si scopre che il DNA non corrispondeva e che l'uomo arrestato si chiamava Guy Hoao molti credono fermamente che l'uomo sia scappato su una nave mercantile e che ora si trovi in America Latina il problema in casi come questi è che Xavier Dupont è una persona totalmente ordinaria non ha segni particolari è di altezza media ha un fisico relativamente normale è molto difficile riconoscerlo tra la folla perché passa facilmente inosservato sembra di vederlo ovunque ma da nessuna parte allo stesso tempo Genevieve e Christine Dupont quindi la mamma e la sorella di Xavier sono tuttora convinte che l'uomo sia ancora vivo e che sia innocente questo caso a distanza di 13 anni rimane ancora totalmente un mistero sono tante le domande senza risposta e ancora oggi non sappiamo che fine abbia fatto Xavier è vivo? è morto forse è ancora in contatto con qualcuno ha chiesto aiuto a qualcuno per scappare oppure si è davvero suicidato o forse vive come un recluso da qualche parte nell'America Latina probabilmente al giorno d'oggi ha anche cambiato volto può essere che si sia sottoposto a qualche intervento e che abbia comunque cambiato i connotati che sia irriconoscibile proprio come aveva fatto Tatsuya Ichi Ashi una persona di cui vi ho parlato in un video un po' di settimane fa se volete andare a recuperarlo come vi dicevo prima Xavier è una persona totalmente ordinaria ed è molto facile che si disperda tra la folla è possibile che un giorno avremo le risposte alle domande che ci poniamo da tutti questi anni ho quindi un'ultima domanda da fare a voi ovvero secondo voi Xavier Dupont è ancora vivo? questo era tutto se vi è piaciuto passare del tempo con me vi invito a mettere un mi piace a questo video o non mi piace se invece non vi è piaciuto in ogni caso ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di un influencer che in live ha fatto qualcosa di raccapricciante spero quindi che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi non dimenticate di iscrivervi al canale qui trovate il video che YouTube pensa vi piacerà e ricordate YouTube non si sbaglia mai e qui invece trovate la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao